Musica Burocrazia Per sistemare un capannone in America 28 giorni da noi 260 giorni Quando ho visto 260 giorni ho detto E' andata bene Che si sono scordati alcuni passaggi amministrativi Che ci vuole di più Se io prenderò l'ordinario Sarò in prima fila accanto a chi ha vinto Perché questa è la regola della vita Grazie